Ciao, io mi chiamo Davide Bartolucci e vengo da H-Farm, che è un contesto particolarmente unico nel panorama del digitale in Italia e non solo. Oggi siamo venuti qui a Italian's Festival per raccontare il ruolo della creatività applicata al business in tutte le declinazioni del mercato, dell'education, di tutti gli ambiti in cui H-Farm opera. Per noi il tema della relazione con i talenti è molto importante, sia nell'intercettarli che nel farli crescere, che nel fare in modo anche che loro riescano ad essere parte integrante di processi particolarmente innovativi e quindi oggi speriamo che questa sia un'occasione per condividerlo con le persone che ci ascolteranno. Grazie a tutti!